Indiscrezioni, Rumors, Pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News. Questa volta vi parliamo di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, della dedica di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez, di Moreno di Amici Possibile concorrente di tale e quale show e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Una delle coppie più amate tra i giovanissimi potrebbe essere in crisi. A far venire il dubbio è stato un post Instagram di Paola Di Benedetto. L'ex Gfina ha pubblicato uno scatto in cui è abbracciata a Sara Daniele e Aurora Ramazzotti e nella caption si legge una citazione alquanto esplicativa. Almeno per i più attenti e assetati di Gossip, certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà, dal più celebre brano di Ligabue, certe notti. E dunque è solo una banale citazione o l'amore con Federico è finito. Ignazio Moser. L'esperienza all'Isola dei Famosi è terminata e gli ormai ex-naufraghi stanno rientrando in Italia. Nel frattempo, Moser ha trovato il tempo di fare una super dedica d'amore a Cecilia Rodriguez. Grazie amore mio per la fantastica sorpresa. Sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia. Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita. Che sia il preludio di una proposta con i fiocchi? Tutti aspettano la fatidica domanda e il, sì, di Ceciu. Cecilia. Ignazio, non deludete i fan. Moreno. Da un paio di settimane non si fa altro che parlare di coloro che potrebbero partecipare al tale e quale show. Il programma condotto da Carlo Conti. Questo perché attualmente la produzione sta provinando i futuri membri del cast. In poll. Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Ma attenzione perché è sbucato fuori un altro nome forte. Moreno. Ricordate il rapper di Amici? Bene. Sembra proprio che manchi solo la firma.